chi può criticare realmente la musica oggi? solo i musicisti non solo i musicisti quelli titolati poi gli strumentisti perché detto da lui Francesca Michelina suona più strumenti di quanto le persone che l'hanno criticata sappiano scrivere correttamente senza fare errori grammaticali allora lui probabilmente non è specificato nell'articolo però lui probabilmente si riferisce a gente che fa dei commenti sbagliati allora ci stanno i trogloditi c'è gente che comunque dice cose sessiste dice cose pesanti che dice che sta là perché ha qualche raccomandazione e noi assolutamente ci dissociamo queste cose che fanno schifo ma anche quelli che magari scrivono quanto sei secca dovresti mangiare un po' di più quelle sono stronzate sono stronzate se c'è gente veramente che purtroppo non no no vabbè questi non ce la fanno e io spero che Cattelan si riferisse a quelli ma quando leggo questi comportamenti mi fate schifo perché comunque non è specificato quindi diciamo i comportamenti di ironia nei confronti di quello che è successo della gaff presunta che ha fatto la Michelin e ovviamente il web si è sbizzarrito tra questi insomma c'è soprattutto la pagina di Giovanni io alla fine veramente non ne ho fatto quasi zero ho fatto una roba ma veramente tu hai paura hai paura? ho un po' paura ma poi quando le cose sono troppo evidenti io mi cioè mi sembra un po' di sparare sulla croce rossa sì sì ma infatti no tu c'hai un po' questo marchio e va bene io non l'ho mai fatto quindi non lo inizio a fare adesso ma guarda secondo me fare un meme un meme non è quello il problema allora molta gente mi ha accusato mi sono anche messo a parlare con delle persone non è che a discutere sui commenti perché poi io certe volte non resisto e quindi e c'è da gente che mi ha accusato di bullismo e secondo me è molto grave non capire la differenza tra bullismo e satira questo adesso sono serissimo vai vai io voglio questo il bullismo è un ragazzino ciccione anzi come si dice sovrappeso sovrappeso di 15 anni che non ha modo di difendersi ed è viene bersagliato bersagliato preso in giro dai compagni quello è una cosa grave perché lui non può difendersi non può qua stiamo parlando di una delle persone più influenti in questo momento per quanto riguarda la musica per quanto riguarda che ha un sacco di di persone poi e poi attenzione anche il contenuto cioè il contenuto di un bullo è qualcosa che è pesante attacca una una difetto fisico o qualcosa scherzare su una gaff non è che che ho qualcosa contro il personaggio io stavo scherzando su una gaff che ha fatto punto stop come potrei scherzare su di te su me stesso quindi non ho nulla contro questa questa persona che tra l'altro poi ci ha costruito anche un po' una carriera su queste cose sul contrasto su quello che sta diventando un po' la tv italiana la musica ma tutto anche la politica tutti questi dissing a distanza che uno dice una cosa l'altro gli risponde e non si finisce più sono delle critiche la gente si schiera con uno si schiera con l'altro è diventato tutto un po' abbastanza triste e direi che x factor anche tutto quello che è successo con morgan con emma marrone con annalisa con i produttori che si mettono in mezzo mi ricordo morgan aveva detto la canzone di annalisa non è una canzone armonicamente complicata che è vero poi morgan l'ha detto si aveva detto armonicamente banale credo si si è una cosa come se dico cioè non è importante ma infatti ok stanno fior di canzoni con tre accordi il problema è che questa gente che ha potere come ad esempio in questo caso Cattelan cioè purtroppo confondono ancora di più le cose perché quello che è successo in realtà è oggettivamente una gaff un errore non si può salvare cioè nel senso che è evidente che lei quando parlava di van graziani non era preparata quando parla di annalisa ha detto che l'armonia è complicata e l'ha detto cioè non è e va benissimo chi se ne frega cioè però come dire non si può dire fate schifo se poi ci sono delle comunque ok le merde umane che scrivono commenti sessisti è un altro discorso e ripetiamo speriamo che Cattelan si riferisse però quando c'è una comunità di musicisti che è molto grande che comunque si sente un po' prese in giro da questi discorsi qua è normale che risponda con ironia certo ed è normale ed è una cosa che comunque queste persone sicuramente mettono in conto e devono mettere in conto e chiaramente quando però si fanno discorsi tipo mi fate schifo eccetera si genera soltanto più odio probabilmente bisognerebbe stare zitti anche il discorso del polistrumentismo non ha alcun senso non ha senso abbiamo fatto la roba ma non ha alcun senso assolutamente quindi non siamo contro queste persone semplicemente essere in grado di capire la differenza perché se è tutto uguale facciamo tutti schifo come dice Cattel non siamo fregati perché non si riesce più a distinguere chi non si può più far satira non si può fare niente fare una cosa divertente perché non puoi su che scherzi non si può neanche scherzare sulla tragedia del fatto che questa super musicista che è non sapeva se chi fosse Ivan Graziani cioè tragedia tra virgolette ma ci può stare ma ci può stare se sai quante figure di merda fare io che sono ignorante diciamo che noi comunque facciamo un podcast però magari non direi wow se c'è un ospite due minchiate prima io me le leggo se c'è un ospite che io non conosco figurati se conducessi X Factor cioè come dire è ovvio che lì è anche una mentalità però se non conosci Ivan Graziani nemmeno hai vita di dire wow come è stato di collaborare graziani come è stata l'esperienza cioè fai più la vaga esatto cioè io per dire non sono neanche un super fan di Graziani capito conosco quattro cose in croce non so se sono l'ultima persona che può difendere questa cosa è il concetto che ora è Graziani una volta è stato con Simona Ventura con i Muse ti ricordi quando Simona Ventura ha quelli che è il calcio sono andati i Muse si sono invertiti batterista e cantante ma appunto attenzione c'è una differenza uno Simona Ventura non è una musicista non si spaccia per musicista e poi quelli che hanno fatto uno scherzo hanno fatto uno scherzo due sono molto simili ok cioè nel senso che se tu io li conosco sono un fan dei Muse quindi li riconoscerei però una persona che non sa niente è che magari giustamente fa il suo lavoro c'hai i Muse che devono fare la marchetta li fa entrare non si accorge è impossibile forse avevano anche truccati occhiali insomma comunque era difficile quella cosa là quella è stata se poi la gente ci si mette di impegno per farti fare la figura di merda no no poi questi c'hanno duemila calcio ma anche la stessa Michelin penso che dovrà pensare a diecimila cose quindi ci sta pure che fai una calcio diciamo l'aggravante è che comunque Ivan Graziani è Ivan Graziani però non sto neanche a fare quello perché devi conoscere Ivan Graziani io non lo conosco io conosco pochissime cose come dire semplicemente magari un cinque minuti prima quando è morto io l'ascoltavo quando avevo 14 anni però scoprì che era morto lo scoprì tipo dopo dopo cinque anni dopo perché vabbè poi ai tempi non c'erano i mezzi che ci stanno oggi ora se muore una persona te lo sai immediatamente rip eccetera e quindi però può succedere può succedere tutto il problema è poi se uno ti fa una battuta ci devi stare perché comunque sei in un sistema dove prendi un sacco di soldi ok ok